L'insufficienza di una qualsiasi risposta. La via della conoscenza attraverso Attilio M. una voce. In ognuno di voi qui presenti, strada facendo, si è affacciata l'idea che in colui che viene plasmato dalla via della conoscenza si manifesti qualcosa di ancora non ben definito a portare la sua mente ad implodere. E' infatti possibile parlare di un essere che diviene incapace di articolare i concetti di un tempo quando ancora si poneva domande o si dava risposte che per lui avevano un significato, quello che lo portava a proseguire lungo la sua meta evolutiva perché ad un tratto quell'uomo si ritrova nella situazione in cui le domande che gli vengono poste e gli interrogativi nati dentro di lui cozzano unicamente contro l'insufficienza di una qualsiasi risposta. Con la medesima insufficienza, poi, lui si trova improvvisamente costretto a fare i conti persino riguardo all'esperienza che sta vivendo dentro la via della conoscenza. Come vi abbiamo spesso detto, qui avviene un continuo controprocesso della struttura della vostra mente proponendovi concetti che nell'immediato vi affascinano ma che in realtà sono insidiosi e paradossali perché svuotano progressivamente la vostra mente dei suoi contenuti.